E' pesante questa cassaforte, mi sembra di essere tornato ai lavori forzati. Sì, una volta per furto di automobili, hanno portato in tribunale due che mi avevano visto rubare una macchina, però io avrei potuto portarne mille che non mi avevano visto. E ti hanno condannato? Sì, mi hanno dato un mese per semi-infermità mentale, del giudice si intende. Presto a organizzarsi, sta arrivando già il vitra. Oh, quel buono ragazzo sfortunato. Ma che sfortunato, ha fatto fuori un sacco di gente. Appunto, sarà pieno di rimorsi, poverino. Troviamo invece un sistema per farlo fuori subito. Trovato, capo! Parra! Tiriamo sulla cassaforte fino al soffitto. E ora? E ora leghiamo la corda al pomello. E poi? Poi mettiamo questa lama affilatissima nella porta. Ma troppo complicato. Ma no, è semplicissimo. Quando Gioia Mitra apre la porta, la lama del coltello taglia la corda e la cassaforte gli va sulla testa. Mi sembra tutto giusto. È come l'uovo di Giotto. Ignorante, vorrei dire come l'uovo di Colombo. Sento i passi di Giotto. Atteggiamento indifferente. È permesso. Avanti. Allora, cosa c'è? Non ha funzionato perché la lama è stata messa al contrario. La prova è che, scusa un momento, se io chiudo la porta, la lama taglia la corda. Sei un gaster da sto pazzo. Uno che si mette ca' foda solo. Ma che gaster sei? Ma capo... Ma tu, tu, tu non sei capace di ammazzare, è vero una mosca. Eh no, io le mosche le ammazzo, le ammazzo tutte con Timor. Timor, basta una nuovoletta e... Che strage di insetti. Timor, un efficace insetticida. E un altro consiglio per la vostra casa. Il nuovo ipoclorito di sodio Montecatini. La candeggina che candeggia facile anche in lavatrice. Sigillato. Garantito. A titolo controllato. Prodotti per la casa Montecatini Edison.